siamo con il presidente dell'ospedaletti presidente se l'aspettava inizio stagione questa grande gioia e cosa si prova adesso allora aspettarcela no prepararci sì noi avevamo un obiettivo a due anni da partendo da quest'anno di cercare di arrivare in eccellenza poi però dalla prima partita prima in classifica fino all'ultimo prima in classifica questo non aspettavo è un grazie a tutti fantastico il gruppo fantastici ragazzi fantastico il mister col suo staff preparatore e poi un applauso al nostro direttore sportivo nonché socio del direttivo roberto borgese al suo aiutante antonio che sono stati i fautori già già dall'estate di questo di questo successo emozione tantissima siamo pronti il comune ci ha regalato questo campo nuovo omologato per l'eccellenza toccava a noi fare la nostra parte l'abbiamo fatta grazie presidente complimenti grazie